Sorocaite, una bella Pinerolo stasera non è riuscita a espugnare l'E-Work Arena. A tuo avviso qual è stata la chiave di volta della partita e dove voi magari vi siete espresse di meno questa sera? Prima di tutto voglio fare i complimenti alla squadra di Busto perché penso che è una grande reazione di squadra per quello che era successo nelle scorse settimane. Quindi complimenti perché lo so che non è facile, si sono compatte bene e stanno dimostrando questo ogni partita alla volta. Non mollano ed è difficile trovare degli spazi di cui entrare, non mollano mai, ritornano sempre, quindi è una partita di tanto nervosismo. La differenza come sempre secondo me fa il muro difesa. Chi difende di più, chi tocca più palloni, poi costringe l'avversario a sbagliare, allungare le azioni, non piace nessuno perché vogliamo chiudere subito. Quindi quando abbiamo difeso di più noi e siamo state più ordinate noi, siamo riusciti a star sopra. Appena abbiamo perso magari qualche cosa di precisione, abbiamo lasciato loro a fare qualcosa in più in difesa o comunque chiudere e gasarsi, come si dice nel gergo, sono andate sopra. Comunque 3-2 è un risultato importante perché muoviamo sempre la classifica. Quest'anno come si può vedere, mai dire mai, quindi per noi comunque è un punto molto molto importante. Grazie. Ciao.